se non mi è rimasto manca oh l'ho fatta a due che si fa? un tico piccolo a mano ma guarda come riesce a fare si, 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 grazie ok, che gli dà a lui? niente? eh, che datte gli dà? eh, si, si, mamma ha dormito, bambino eh, guarda la ragazza aspetta, non c'è niente, vedi che non c'è nulla non c'è nulla non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente ok, ok, ok ok, ok ok, ok ok, lì, mappa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti